Il sindaco di Faenza Iggiole e la vicepresidente della provincia di Ravenna, Palli, rispondono al ministro Musumeci su come sono stati spesi i fondi stanziati per l'alluvione. Una conferenza stampa caratterizzata da un elenco di lavori per strade, spurghi, frane, rimozioni e rifiuti, argini per progetti di immediata canterizzazione. Decine e decine di milioni di euro per ricostruire il distrutto. Le istituzioni locali lamentano però un mancato stanziamento dei fondi per la messa in sicurezza del territorio per evitare quello che poi è avvenuto in questi giorni. Un piano fermo da mesi. Lamentano una mancanza di coesione e l'assenza sul territorio della struttura commissariale. Il commissario Figliuolo solo due volte a Faenza per cinque ore totali. Non solo la polemica non la riceviamo volentieri ma la riteniamo sterile e irricevibile. Peraltro una polemica che viene alimentata nel momento di massimo picco dell'allerta meteo. Quindi irricevibile perché ci distoglie dalla nostra funzione principale che in quel momento è mettere al sicuro le nostre comunità. Riceverla poi da un ministro che dovrebbe avere come tra i suoi compiti la consapevolezza di cosa vuol dire gestire la protezione civile in emergenza davvero la rende una becera strumentazione di tipo politico. A noi quello che interessa è mettere al sicuro le nostre comunità. Abbiamo lavorato in questi giorni perché questo avvenisse ma ciò che chiediamo a gran voce da 18 mesi è una strategia nuova un cambio di paradigma e di gestione delle acque di questo territorio perché è evidente che questa strategia oggi è completamente latitante. Ci viene detto che non sono state rendicontate le risorse. Noi le risorse le abbiamo spese, le abbiamo spese, i cantieri si vedono, quello che abbiamo fatto si vede. Si gioca sulla differenza tra rendicontazione che vuol dire definire a piedi lista ciò che hai speso e eseguzione. L'esecuzione si vede, la rendicontazione è un procedimento meramente amministrativo. A noi quello che interessa è mettere al sicuro i cittadini. Quindi ogni polemica ricevuta dalle istituzioni oggi è ricevibile perché non serve. Noi abbiamo speso risorse finanziate su due ordinanze, soprattutto sui beni pubblici, la 6 e la 13. L'ordinanza 6 è l'ordinanza che ha finanziato i lavori che erano già accaduti, cioè che ha permesso di rimborsare le decine di aziende che hanno lavorato per noi per la riconquista immediata della città dopo la seconda alluvione, dal prelevamento dei rifiuti, degli spurghi, togliere la terra, togliere l'acqua, risistemare marciapiedi, strade, mettere in condizione i cittadini di poter tornare nelle loro abitazioni anche solo per iniziare il lavoro di riappropriazione e riconquista. Lavori che erano stati fatti preventivamente perché ne avevamo bisogno e che sono stati finanziati dalla cosiddetta ordinanza 6. Il 90% di quei sono attorno ai 15 milioni per l'Unione Romagna Frentina, 17, sono stati al 90% addirittura già rendi contati. Poi abbiamo avuto una seconda, solo una seconda ordinanza, la 13, per i lavori di messa in sicurezza e poi abbiamo avuto un paio di altre ordinanze per l'edilizia sportiva o scolastica. L'ordinanza 13 è uscita in ottobre dell'anno scorso e ci è stato chiesto di candidare solo progetti ad immediata cantierizzazione. Quello cosa significa? Che potevamo solo candidare progetti semplici da un punto di vista strutturale. L'abbiamo fatto, pochissime risorse per Brisighella, torna ai 500 mila euro, che non è uscita a gestire quelle frane ancora aperte. Qualcosa di più per Casola sulle frane. Dico questo perché hanno a che fare poi con tutta la Romagna, perché tutta questa terra che entra nei fiumi cambia il destino di quella piena. E invece sul comune di Faenza abbiamo investito sostanzialmente sulla mobilità, 3 milioni e 650 sulla costruzione di nuovi asfalti che stiamo realizzando alcuni addirittura in questi giorni, il resto 1 milione e 300 mila invece per il verde pubblico sostanzialmente e piccole infrastrutture. A noi serve una struttura commissariale che sia qui, che possa vedere che cosa succede sul territorio, con la quale noi possiamo avere un dialogo costante, che possiamo portare a vedere i cantieri, che possiamo portare a vedere gli alvei, che possiamo portare sui territori quando succedono nell'imminenza questi eventi. Il 30 giugno scorso doveva essere presentato alla struttura commissariale della regione il piano per la messa in sicurezza del territorio. Sappiamo che il piano non è stato presentato, poi è stato detto, lo presenteremo ma a grandi linee. Entreremo in dettaglio in futuro, a che punto è questo piano, cosa vi hanno detto. Lo attendavamo con grandissimo fermento, perché capite che il piano è quello che ci dirà che cosa fare dei nostri fiumi realmente, perché noi adesso abbiamo fatto una serie di richieste che ci servono per mettere il nostro territorio nella situazione di antemaggio 2023. Ma quello che noi vogliamo fare è mettere il nostro territorio nella situazione di protezione, guardando al futuro, non riportandolo al passato. Questa è la necessità, perché gli eventi calamitosi e il cambiamento climatico di oggi ci stanno portando a sconvolgimenti climatici tali, per cui l'evento a cui abbiamo assistito a settembre 2024 porta 300 mm di pioggia nel giro di 3-6 ore. È una pioggia record. Vedrete quando uscirà il report di Arpae, che si tratta nel giro di 3 e 6 ore di un'intensità di pioggia record. Quindi noi abbiamo bisogno di un piano speciale che definisca per ogni singolo fiume quali sono le tattiche. C'era stata presentata una bossa, questa bossa conteneva verbalmente, quindi non una cartografia, ma verbalmente una strategia. Questa bossa non sappiamo che fine abbia fatto, la attendavamo per giugno, siamo a settembre e ancora non è sui nostri tavoli.